Musica Tenetela, tenetela, ok, facciamo la benedizione adesso, ok? Tenetela bella alta tutti e due insieme. Il Signore che è luce delle genti ha visitato il nostro oratorio, sentiamoci chiamati e amati in questa bellissima avventura che è la vita, che è la fede. Ci benedica e ci accompagni, Dio Onnipotente, che è Padre, Dio e Spirito Santo. Amo. Non sia una vecchia storia e nelle nostre scelte ha le vite appeso un filo, svegli sempre la magia. Nel bene che scopre il buio e il talento, seguendo il profumo della gioia. Noi, Don Mosco, bellezza che travolge l'anima, ispirandoci insieme a noi, Don Mosco, speranza viva per l'umanità, nel tempo e nell'eternità. Amico, viene insieme a noi, c'è davanti una missione, sogno di felicità, le sorrisi di chi cercano. Nel nome del Padre, all'Eviglio, e allo Spirito Santo. Amo. Siamo qui a illuminare questa notte, la nostra luce sarà il segno e ci sentiamo scelti e chiamati da qui. Che scopre nel buio il talento, seguendo il profumo della gioia. La luce che è stata incisa oggi pomeriggio alla Casa del Sole, che è un luogo che accoglie le famiglie che a Bergamo vengono perché se no hanno dei malati, la famiglia devono stare per un lungo periodo in città e arrivare fino a Cusco. Che siamo chiamati a essere ragazzi e ragazze, uomini, donne, appassionati del Signore, scendere la benedizione di Dio Onnipotente, che il Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Bellezza che travolge l'anima Ispirandoci siamo noi, Don Mosco Speranza viva per l'umanità Nel tempo e nell'eternità Un sogno autentico Forza e passione dà La vita è fuori di Dio Testimone al tuo nome Speranza viva per l'umanità Nel tempo e nell'eternità E di noi, Don Mosco Nel tempo e nell'eternità Speranza viva per l'umanità Speranza viva per l'umanità